Sono ancora da chiarire le ragioni che hanno portato ad una rissa fra due giovani avvenuta nella prima serata di oggi 12 maggio a Piacenza. Potrebbe essere stata una ragazza la causa del litigio fra i due che ha avuto come teatro il parcheggio retrostante il mercatino orionale che oggi era peraltro chiuso. La scena è avvenuta sotto gli occhi esterefatti di svariati passanti che hanno avvisato le forze dell'ordine. Sul posto sono confluite tre volanti della polizia che hanno immediatamente diviso i contendenti entrambi a terra. Uno dei due giovani è stato portato in ospedale per le cure del caso. Toccherà ora alla polizia ricostruire l'accaduto. Nel pomeriggio invece, sempre la polizia, era dovuta intervenire in zona via conciliazione Largo Erfurt, altra area calda di Piacenza.